È stata una grande vittoria, sapevamo oggi che era dura, perché comunque il Parma in questo campionato ha fatto benissimo e avevano giocatori di ripartenza, quindi noi dovevamo stare attenti soprattutto alle ripartenze. Penso che abbiamo fatto molto bene, poi nel secondo tempo abbiamo trovato i due gol, penso che è stata una vittoria molto meritata. Devo ringraziare il mister per le parole che ha speso nei miei confronti, so che comunque non è da tutti esporsi così, quindi lo ringrazio pubblicamente. Bisogna guardare soprattutto a come è fatto bene la squadra e penso che oggi veramente è stata una partita perfetta sotto tutti i punti di vista e ci meritiamo questa vittoria.